Questo è un calendario storico che ho ideato, progettato e realizzato grazie alla presidenza del Consiglio Comunale, alla Fondazione Cassa di Risparmio, basato su una nota piantina di Pesaro risalente a circa 350 anni fa, che è stata stampata nel 1663 dai famosi editori olandesi Blau. Siamo a presentarlo in questa sala perché qui ce n'è una copia in alto rilievo, scolpita nel 1961 dallo scultore Luigi Galli. Il calendario è strutturato estrapolando, ho scelto dalla piantina, 12 emergenze, 12 luoghi, 12 edifici di Pesaro, ognuno per ogni mese. Per esempio il Palazzo Ducale, la Pageria, poi il Palazzo Baviera, la Fontana, eccetera. Ogni edificio o luogo è corredato da tre foto a colori, una in particolare dall'originale seicentesco del Blau, uno dall'alto rilievo e una foto del luogo come oggi, per vedere l'evoluzione di ogni singolo luogo.